Ciao a tutti piccoli pazzi capitati per caso su questo canale, io sono Oshii e sono di nuovo qui con un altro episodio di Midnight Train, il capitolo 3. Nello scorso abbiamo appena incontrato Selene e niente, adesso possiamo andare a vedere degli orsacchiotti che si inficcano. Proprio una bella scena direi. Vediamo un po'. Allora, ok, un orsacchiotto verde. Luna, questi orsacchiotti sono molto brutti, sembrano come quelli che avevamo all'orfanotrofio. I miei vicini urlano. Ricordi, li nascondevamo in un armadio perché ci spaventavano. Beh, non vi do la colpa, questi sono molto disturbanti. Ma dove li vede disturbanti? Non lo so, vabbè. Un orsacchiotto blu, un orsacchiotto rosso e un orsacchiotto viola. Ti ha una gemma viola? La prendiamo, ok. Una metista. Neil, non sapevo che anche a te piacesse rubare. È molto inusuale per un detective? Certo che no, lo stiamo soltanto prendendo in prestito. Senza permesso. Almeno dovresti scambiarlo con qualcosa, non pensi? A nessuno piace essere derubato. So di cosa parlo. Quindi mi sta dicendo che dovrei dare qualcosa all'orsacchiotto. Ok, abbiamo qualcosa da dargli. Questa forse? No? Ok, mi sa che... Adesso ci ammazzerà l'orsacchiotto? Yep, ci ammazza l'orsacchiotto. Lo sapevo, ci ammazza l'orsacchiotto. Quindi mi sa che dobbiamo prima uscire, prendere qualcosa e poi andare a prendere la gemmina viola. Ok, nessun problema. Carichiamo. E vabbè. Vi faccio ripetere la conversazione giusto perché... L'orsacchiotto lo ignoro. E infatti non è venuto. Che sono sti cosi? Dei buchi nel muro. Sembra che ci si possa mettere qualcosa dentro. Ok. E c'è una box di salvataggio. Stavolta però... Voglio salvare nel secondo file. Ok. Vediamo un po'. Qui posso andare. Sì. Non possiamo vedere nulla. È così buio. Per ora dobbiamo uscire da qui. E ti pareva? Lo sapevo che non potevo andarci. Di qua? Non pensi che questo edificio sia molto meglio degli altri? A me sembra terribile allo stesso modo. Forse peggio. Serio? Non hai notato tutte le gemme qui? Ti piacciono le gemme? Sì. Voglio prenderle e venderle quando torniamo al nostro mondo. Ho provato a tirarne fuori una dal muro. Ma è impossibile. Capisco. Quindi quello che ti piace sono i soldi. Ah, qui ci sono dei letti. Non ho mai visto un letto così scomodo. neppure nelle taverne più economiche sono così. Ah, mi sembrano abbastanza confortevoli. Molto meglio che dormire sul pavimento. Dormivi sul pavimento? Grazie alle cose che ho rubato avevo il denaro per restare anch'io alle taverne qualche volta. Ma non potevo sempre permettermelo. Quindi dormivo anche per strada un paio di volte. Anche questo è buio? No, qui ci posso entrare. Dobbiamo pensare a un modo per salire qui su. Di qua puoi andarci? No, eh? Ok, quindi servirà qualcosa lì. E qui nel frattempo ci sono i miei vicini che fanno un casino. Spero che non si senta nel video. Ma vabbè, vabbè. Cos'è sta cosa? Una scala? Ci andiamo dopo. Per ora, vediamo qui. Questa porta sarà sicuramente bloccata. E infatti è chiusa. E quindi, vabbè, saliamo sulle scale. Non muoverti. Cosa? Perché? C'è una trappola lì. Se ci salite sopra, non potrete. È finita. Come lo sai? Non sottostimarmi. La polizia mi faceva sempre queste trappole creative. E riuscivo ad evitarle neanche le più complesse. Questa è nulla. Cosa dovremmo fare? Dovete soltanto seguirmi. Fate attenzione. Ok. 1, 2 1, 1, 2 2, 2 1, 1 e 2 1, 1 3, ripetila mi sa che ho bisogno di un'ennesima ripetizione 6, ripetime lo tesorino mio 1, 2, poi ce ne sono 1, altri 2, poi ce ne erano 2 in basso già mi sono persa di nuovo, ripetiti un'altra volta 2, 1 su, 2, poi 2 giù 1, 1 su e poi dovrebbero essere di nuovo 2 qui voglio provarci 1 e 2 se cammino anche su quello... ok si mi ammazza volevo provare a vedere se era veramente una trappola ma infatti mi ammazza yeah quindi va bene andiamo dai e vediamo se riesco a ricordarlo stavolta non muoversi si 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 bla 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 ok vai 2 a destra, 1 su 2 a destra 2 giù 2 a destra 1 su 2 a destra e... poi mi sono persa no proviamoci e vediamo da 1 e 2 1 su no erano 2 su no era 1 su ok che bello perdere in maniera orribile si ragazzi questa cosa la farò tipo mille volte perché diciamo che io ho un'ottima memoria ma quando si parla di vedere i passetti non me li ricordo mai quindi ripeterà tipo 3000 volte allora 2 a destra 1 su 1 a destra no 2 a destra 2 giù 2 a destra 1 su 2 a destra 1 su e 2 a destra ok quindi è sempre 2 1 2 2 1 eccetera che proviamo non lo ripetere voglio provarci da sola allora 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 si ce l'ho fatta ce l'hai fatta sapevo già che sarebbe stato facile per luna ma avevo alcuni dubbi su di te eh grazie per esserti fidata di me ad ogni modo fatemi sapere quando siete pronti per tornare indietro dall'altra parte ah questo c'è ok ci sono i barattoni di cibo vuoto non abbiamo mangiato nulla per alcune ore adesso spero che potremo trovare qualcosa da mangiare presto ok una lanterna ok si prendiamo una lanterna e basta ci serve per la stanza buia luna mi sembra strano vederti parlare con qualcuno con quello sorriso eri così spaventata di parlare con gli altri normalmente parlere se avresti parlato solo con me sei riuscita a superare la tua paura durante questi anni o è perché nilla è un'eccezione ad ogni modo sono felice per te oh sei pronta per tornare indietro se venite seguitemi ok la strada è la stessa giusto ah no così eccoci di nuovo tempo di continuare a cercare quel treno io l'adoro e adoro farla cantilenante mi dispiace ma la farò per tutto il tempo così con quella voce canzonatoria perché boh piace fare la voce canzonatoria e niente vabbè continuiamo il nostro cammino adesso abbiamo la lanterna quindi qui dovrebbe essere illuminato non riusciamo a vedere niente è così buio ma non sarà un problema visto che abbiamo trovato una lanterna usiamola ok ecco ciao teschietti che si girano a casaccio ok qui c'è un altro letto non fa niente qui c'è una gemma e c'è del sangue quindi ok la netta sensazione è che appena prenderemo questa gemma ci riempiranno di sangue quindi andiamo a salvare prima di tutto di nuovo perché si è allora ok salvato e andiamo a recuperare quella gemma e adesso i teschi si gireranno si la prendiamo uno zaffiro cos'è quei cosi che sono usciti da di lato dagli occhi ok quindi che cosa dobbiamo fare per finire sta cosa forse dobbiamo girare tipo i teschi a vedere la gemmina beh io vi giro tipo tutti così fatemi girare un po' attorno magari trovo qualcosa si attimo mi danno tipo risposta se li tocco no eh non posso andare neppure prendila eh no mi ammazzano lo stesso però vengono tipo dai lati quindi forse li dobbiamo girare dai lati non l'ho capito sto puzzle forse mi sfugge qualcosa proviamo a girarli di qua così non vedono e ok no mi attaccano lo stesso ok ultimo tentativo totalmente a caso provo a metterli in posizione se non poi cerchiamo un paio di indirizzi in più provo a metterli così che guardano tipo che si guardano tipo l'un l'altro e proviamo a prenderla no mi ammazzano lo stesso ok quindi vabbè proviamo a cercare qualche indizio magari riusciamo a trovare qualcosa vediamo 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 appunto è che io non ci vedo un bel niente ma vabbè non la voglio prendere qui c'è del sangue ma non mi dice niente e l'elettro non mi dice e vabbè allora 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 il sangue sta tipo qui però vabbè proviamo a vedere se in giro c'è qualche altra cosa anzi no per una volta voglio provare a chiedere a Neil perché non l'ho mai fatto prima e voglio provare a farlo ora perché non ho idea di questo ok esploriamo la miniera Luna dovremmo esaminare tutto anche una scatola potrebbe essere utile e perché dobbiamo riunirci in un posto così orribile prima l'orfanotrofio adesso questo voglio andare contro in qualche posto non è raviglioso per favore non ignoratemi ho detto qualcosa importante ok quindi anche una scatola dobbiamo vedere scatole vabbè cerchiamo delle scatole in giro ma non l'aveva già detta sta cosa forse l'ha detta prima che salvassi ok questa era la scatola che tendeva non credo ma vabbè qui no ok c'è una scatola vuota ok ho preso un scatolone ok un'altra scatola questo scatolone lo posso usare per salire no giusto quindi salvo di nuovo e iniziamo a salire poi magari ci torniamo indietro lì comunque in ogni caso anche esaminare le scatole non è che mi ha aiutato per quel punto ok si la uso e ok ah ecco che cosa dice quindi ok me lo segno uno a sinistra uno giù e uno in su e uno a destra uno a sinistra e l'altro in giù ok ve lo sono segnato e poi qui c'è tipo un'altra gemma una gemma rossa la prendiamo rubino ok io ho la mia prima gemma che bello e adesso posso anche andare a muovere quei teschi quindi effettivamente sì c'era utile quella scatola va bene bravo il nostro Sherlock allora questo dovrebbe essere girato a destra e questo a sinistra giusto questo giù va bene questo doveva essere all'insù questo all'insù dovrebbe andare bene questo qui dovrebbe essere ah ok posto è caduta da sola la gemma prendiamola lo zaffiro è stato preso e qui vedo qualcosa adesso c'è qualcosa che ok che brilla una chiave una chiave verde strano questa non era qui prima da dove è uscita forse è stata qui tutto il tempo e non ce ne siamo accorti no sono sicuro che non era qui l'avrà messa Selene l'importante è che abbiamo trovato una chiave proviamo a usarla da qualche parte ce l'ha messa Selene quindi va bene niente andiamo e continuamola no che cacchio perché mi si apre il menu da solo che ha deciso il menu che mi si deve aprire da solo non so manco io perché e andiamo a vedere la chiave qui dovrebbe essere qui vuoi usarla? si infatti si è aperto e ci sono dei libri libri sugli orsi e fiori questi libri sono mescolati insieme ma parlano di argomenti abbastanza differenti forse c'è qualche connessione ok sempre vabbè sempre sugli orsi e fiori vuol dire che se prendiamo un fiore viene un orso a mangiarci ah no forse questo fiore lo dobbiamo dare all'orsacchiotto si perché il fiore è viola l'orsacchiotto è viola gli diamo il fiorellino così non ci ammazza male salviamo un'altra volta questa puntata è tipo il non plus ultra delle morti e dei salvataggi peggio di quando i scheletri ci hanno attaccato la prima volta ok ho preso l'ametista lei è tutta l'ucherellona guarda caso lei sa un sacco di cose sa dove stanno le trappole sa che dobbiamo dargli qualcosa probabilmente ci ha messo la chiave vabbè infatti l'orsacchiotto non è stato là però dovrebbe teoricamente mancarci una gemma credo o le abbiamo tutte chi è? non so se le abbiamo tutte effettivamente però potremmo provare a metterne qualcuna qui tipo ci metterei lo zaffiro che è la gemma di luna credo poi abbiamo il rubino che può essere nil e poi abbiamo invece l'ametista che forse sarà selene ma manca sempre una gemmina e non so se posso recuperare quelle le posso recuperare ok si però le lascio per ora alla ricerca del prossimo allora qui già ci siamo stati però effettivamente aveva detto che aveva provato a tirarne una fuori dal muro quindi forse no qui già ci siamo stati e va bene in questa puntata tipo gireremo intorno tutto il tempo senza un modo per trovare effettivamente ciò che cerchiamo già lo so proviamo di entrare qui perché tipo c'era il verde magari c'è anche una gemmina verde nascosta e infatti eccola c'è una gemmina verde uno smeraldo ok quindi andiamo e proviamo a metterla qui perché ho preso sul quaderno ok sì e non è successo un bel niente quindi l'ordine non è corretto forse lo dobbiamo mettere nell'ordine in cui era allora proviamo a metterli nell'ordine in cui li abbiamo tipo raccolti o in cui almeno si dovevano raccogliere quindi allora vediamo un po' il primo che abbiamo messo allora il primo che abbiamo preso è stato il rosso poi abbiamo potuto prendere il blu perché mi sembra troppo strano che guarda caso appena usciti trova una chiave oppure il fiorellino che serviva quindi poi teoricamente il verde io non l'ho visto però c'era il fiore quindi e poi il viola che aveva l'orsacchiotto succede qualcosa? no niente c'è qualche altro indizio da qualche parte magari proviamo di nuovo qui perché magari c'è qualche altro inizio allora qui no non vedo nessun indizio e allora facciamo la cosa più semplice di tutte abusiamo di nuovo degli indizi di nil che magari ci dice qualcosa sull'ordine corretto ah no aspettate 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 l'ordine degli orsacchiotti e rosso viola blu verde noi abbiamo messo rosso blu verde viola non c'è stato manco bisogno di chiedere a nil perché allora rosso viola blu e verde ecco qua e infatti si apre un buchino nel muro andiamo e che posto è questo perché ci sono degli alberi vabbè nominamento beh dannazione deve esserci un altro indovinello scritto sulla porta ti piacciono questo tipo di cose dopo tutto volevi essere un detective mi piacciono gli indovinelli ma non in questa situazione non mi piace perdere tempo su questi perché non metti un numero a caso per esempio 5237 è un numero abbastanza specifico d'ogni modo non preoccuparti aprirò questa porta non sarà difficile mentre aspetti potresti parlare l'una con l'altra non hai visto l'una in anni giusto buona idea mi piace davvero parlare con voglio davvero parlare con luna e il numero era 5237 ti dico bene ne sono sicurissima proprio che lei lo sa già sono così felice di rivederti ancora non riesco a crederci poi nonostante tutto avrei preferito unirci da qualche altra parte così tante cose da dirti e non so da dove cominciare perché non scegli un argomento allora selene luna nilo l'orfanotrofio il treno proviamo a parlare di selene sono lieta che tu ti ricordi ancora di me penso di non averti visto per un decennio quando ho lasciato l'orfanotrofio mi sono sentita molto sola quindi ho deciso di scappare via è stato molto difficile sopravvive vedere da me in una città così piccola quindi ho deciso di andare a Ravenball come ti ho già detto sono diventata un ladro abbastanza famoso all'inizio ero soltanto un piccolo come posso dire non so se c'è una vera e propria traduzione in italiano praticamente saccheggiava le persone metteva le mani in tasca e rubava le cose ma ho finito per rubare cose di valore dalle persone ricche come i gioielli la polizia mi chiamava la rosa avida puoi riuscire a crederci avrei preferito un nickname più carino che io non sono affatto avida beh forse un pochino ma ma dividevo le cose che rubavo con le persone che erano in situazioni simili alla mia senza il mio aiuto sarebbero morte affamate per esempio a ravenwall mi sono fatta un amico che viveva sulle strade era qualcuno che non meritava di essere in quella situazione quindi a volte gli davo dei soldi ma li spendeva sempre per dare da mangiare ai gatti randadi ok era pollo ad ogni modo alla fine ho realizzato che quello che stavo facendo non era giusto volevo guadagnare soldi per me stessa aiutare gli altri in una maniera più onesta ok quindi proviamo a parlare di me Luna perché sei scappata via dall'orfanotrofio senza dirmi nulla ero molto preoccupata la donna che si occupava dell'orfanotrofio mi ha detto che si è stata adottata ma non ci ho mai creduto era troppo improvviso non hai bisogno di scusarti ma se mi avessi detto che tu stavi pianificando di scappare sono rivenuta con te cos'hai fatto per tutto questo tempo se penso che avevi soltanto nove anni quando te ne sei andata spero che tu non sia finita come me a vivere per le strade è difficile oh sei diventata una viaggiatrice meraviglioso quando sei scappata da questo posto hai certamente trovato il posto che quando saremmo scappati da questo posto troverai sicuramente il posto che cerchi ok quindi parliamo di Neil quando hai incontrato Neil? sul treno quindi è meno di un giorno da quando vi siete incontrati sembra che vi conosciate da un sacco di tempo in realtà beh non so se due pip due pipo non sapevo che se due persone potessero rimanere intrappolate insieme sono venuta in questo posto da sola quali sono i requisiti per incontrarsi e rimanere intrappolati qui? ah no quali sono i requisiti per finire intrappolati qui? vorrei saperlo Neil vuole diventare un detective giusto? forse può trovare la risposta ok adesso parliamo dell'orfanotrofio siamo vissuti in un orfanotrofio in una vera una piccola città chiamata Stringfort siamo e perché glielo stai ripetendo cioè ok è per la lor però non era un brutto posto ma eravamo sempre affamate non riuscivano ad occuparsi di così tanti bambini ecco perché snubbavo del cibo da fuori per condividerlo con gli altri siamo state insieme soltanto per un paio d'anni ma i ricordi che ho con te sono molto importanti per me uno dei miei sogni era di rincontrarti non riesco a credere che sto parlando con te ok l'ultima domanda è sul treno il midnight express connette le due maggiori città Ravenbole e Bluebell io sono nata a Stringfort una piccola città proprio come te quando sono scappata dall'orfanotrofio sono finita a vivere a Ravenbole sono salita sul midnight express perché volevo cominciare da capo e cercare un buon lavoro a Bluebell ma sono finita qui questo treno deve essere maledetto o qualcosa giusto? vorrei sapere la verità sul treno ma forse è meglio occuparci è meglio concentrarci e scappare a qui almeno sono felice di aver vissuto questa avventura con te ehi sono uscita dalla prima porta davvero brillante qual è la risposta? 5237 I knew it davvero che coincidenza era il numero che ti avevo detto non avevo idea avresti dovuto ascoltarmi subito forse la prossima volta dovrei essere io quella a risolvere gli indovinelli e andiamo speriamo che ci sia un unboxing di salvataggio e infatti c'è e con questo ragazzi io salvo e noi ci vediamo al prossimo episodio bai 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 di salvataggio Grazie.